Prosegue la rassegna di incontri in occasione della mostra Melting Glacier a Treviso. Nel pomeriggio di sabato 10 settembre, con la performance Vibrazioni Condivise, Pier Callegarini ha dato dimostrazione della propria arte, ispirato dalle note del violino di Silvia Rinaldi. Una combinazione nata da un incontro fortuito e sfociato in un'originale forma d'arte contemporanea. Soprattutto tra artisti e persone che probabilmente hanno fatto un certo tipo di percorso e dunque hanno trovato in un'occasione particolare che fu a Venezia un incontro. Ci fu questo incontro di grande sensibilità e che poi si è trasformato in qualcosa che oggi ha avuto modo di esprimersi tramite la musica, nel mio caso, e tramite l'arte di Pier, che è a tutto tondo. È stata la prima performance che è stata fatta insieme oggi, assolutamente improvvisata, ovvero lui mi ha dato solo delle suggestioni e io avevo una vaga idea di quello che avrebbe potuto fare lui, ma francamente è stato proprio oggi il momento di espressione vera. È stato veramente bellissimo, molto emozionante e anche effettivamente ha dato un senso a questo incontro, diciamo casuale, che poi appunto casuale non è mai, di sguardi nel quale ci siamo probabilmente capiti al volo. L'appuntamento è per sabato prossimo, 17 settembre, con l'esibizione musicale dal vivo con Lele Croce e la mescita di birra col fondo con il birraio Andrea Zanatta.